Come si è in classifica? Siamo del nostro attaccante Mendetta, e in più gioco io al suo posto, quindi speriamo di figurare bene, nonciononostante. In bocca al lupo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. da inizio a partire per un infortunio parliamo un po' della galla abbiamo subito cercato di metterli sotto, inizio partita ci siamo riusciti, poi sfortunatamente Mirko si è fatto male questo ci ha condizionato un po' tutta la partita infatti loro ci hanno sottomesso poi siamo riusciti a mantenere ce la siamo cavata e grazie al rigore siamo passati noi in vantaggio e poi alla fine quando la loro espressione ci ha fatto di nuovo dominare gli ultimi minuti di partita quindi abbiamo fatto una grande vittoria senza altro, una dedica a qualcuno? sempre alla mia squadra che come ogni partita ce la mette tutta e stiamo andando bene per la vittoria di questo torneo un boccolo per loro trevi